Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web nella penultima puntata di questa terza settimana delle curiosità. Eh sì, oggi tocca il coprotagonista della storia, il tetro, solitario, misterioso, affascinante e tenebroso Sasuke Uchiha, erede del clan dal triste e sanguinario passato. Cominciamo! Numero 1. Il nome Sasuke nella cultura giapponese è generalmente associato alla figura del ninja, in virtù del famoso ninja Sasuke Sarutobi, di cui abbiamo già parlato nel video dedicato al terzo Okage, Iruzen Sarutobi. Tuttavia il motivo per cui Kishimoto lo scelse per il suo personaggio è un altro. Si tratta infatti di una citazione e di un tributo ad un famosissimo manga di Sanpei Shirato, appunto Sasuke il piccolo ninja, da cui fu tratto un anime nel 1968, andato in onda da noi su Canale 5 nel 1982, e, altro elemento in comune tra i due, entrambi sono orfani, anche se il piccolo Sasuke è di Shirato solo della madre. Numero 2. In una delle primissime interviste di Kishimoto pubblicate su Shonen Jump, il mangaka rivelò che alle origini il personaggio di Sasuke non sarebbe dovuto esistere. Fu un consiglio del suo editore, infatti, quello di inserire un rivale per il protagonista Naruto. Così Kishimoto iniziò a cercare ispirazioni praticamente ovunque, da altri manga come Yuu degli Spettri, ad eventi della vita reale, e molte le trovò osservando suo fratello gemello Senji Kishimoto. Così, lentamente, il mangaka iniziò a plasmare la figura di Sasuke, cercando di renderla non tanto simile a Naruto, ma complementare, in modo da rappresentare un rivale speciale, l'altra faccia della stessa identica medaglia. Il lavoro fu lungo e complicato, ma alla fine il risultato, beh, è senza dubbio uno dei migliori personaggi di tutto il manga. Numero 3. La primissima apparizione di Sasuke nel manga l'abbiamo nel primo volume, capitolo 3, esattamente questa vignetta qui, quando ci vengono presentati i membri del team Kakashi. Tuttavia, se osserviamo bene, possiamo notarlo anche in una vignetta del capitolo 1, questa, seduto in un angolino dietro a Naruto. Inoltre, possiamo vederlo anche sulla cover, sempre del capitolo numero 1, in groppa ad un falco, segno che già allora il nostro Masashi Kishimoto aveva le idee chiare. Quel falco è un primo schizzo, infatti di Garuda, l'enorme rapace che in Shippuden gli vedremo cavalcare. Numero 4. Una delle tecniche più potenti e più spettacolari di Sasuke è sicuramente il Kirin, la tecnica che gli permette di servirsi dei fulmini dei temporali. Tuttavia, questa è stata ispirata da un mito del folclore orientale, appunto il Kirin, una creatura dal corpo simile ad un cervo, la coda di un bue e la testa di un cavallo. Si tratta di un essere estremamente raro e di buon auspicio, il cui pianto è una melodia triste ma bellissima e la cui visione preannuncia veri e propri miracoli. Si dice inoltre che il Kirin sia in grado di camminare sull'acqua e sulla terra lascerebbe delle stranissime impronte perfettamente circolari. Numero 5. Sasuke Uchiha è uno dei personaggi più amati dai fan di Naruto, infatti in tutti e sette i sondaggi sulla popolarità dei personaggi usciti su Weekly Shonen Jump, lui si è posizionato nella top 4 e nell'ultimo, il più recente del 2011, si è giudicato il secondo posto con la bellezza di 5791 voti, superando il maestro Kakashi di circa 800 voti. Se contiamo tutti i suoi voti di tutti e sette i sondaggi, la cifra è ben 39.423. Numero 6. Nel videogioco Ultimate Ninja Storm Revolution del 2014 è stato incluso un simpatico OVA intitolato Sunnyside Battles e riguardante un buffo sogno di Sasuke. Nel sogno possiamo vedere Itachi indaffarato in cucina, in crisi nel tentativo di cucinare l'uovo perfetto, e mentre Sasuke si accinge ad assaggiare uno dei tentativi falliti, Itachi gli urla di non toccarlo, perché per suo fratello vuole il meglio del meglio, e cioè l'uovo perfetto. Un chiaro riferimento al vero obiettivo segreto di Itachi, e cioè proteggere il suo fratellino a cui ha sempre voluto bene. Bene ragazzi miei, qui si conclude anche la puntata dedicata a Sasuke Uchiha, io spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, statemi bene e noi ci vediamo domani con l'ultimo episodio della settimana su... beh, lo scoprirete. Grazie a tutti! Grazie a tutti!